Salve, sono l'Avvocato Michela Izzo, i più già mi conoscono. Sono orgogliosissima oggi di ringraziare tutta la cittadinanza che mi ha dato l'opportunità di andare in amministrazione a rappresentare le vostre istanze. Come abbiamo in tutta la campagna elettorale espresso, saremo fieri di creare un risorgimento per la nostra San Felice a Cancello. In modo particolare io ci tengo per la mia Cancello Scala, territorio in cui sono nata, cresciuta, formata e soprattutto dove ho deciso di impiantare la mia attività legale, con altresì un'associazione che mi ha dato l'opportunità di stare sempre dalla parte del cittadino utente, anche contro le pubbliche amministrazioni e soprattutto in questo momento, sendo l'esigenza di apportare a questa amministrazione nuova con a capo il nostro sindaco Carmine Palmieri, il migliore sindaco in questo momento storico per San Felice a Cancello, i principi informatori dell'attività amministrativa, quello di legalità, trasparenza e lealtà nei confronti dei cittadini che hanno dato fiducia a questa coalizione e che si aspettano e saranno onorati di averla scelta.